Libera ciò Signore della vita di mani, concire la pace del Signore, e con l'aiuto della tua misericordia viveremo sempre libera e libera di pazza, e se vuole dare un nuovo male, nella testa che risponde alla mia esperanza, e vivere il nostro nostro Dottore, Gesù Cristo. Signore, Gesù Cristo, crede in cui è questo che vi lascia la pace per la mia pace, non guardare la stessa peccata, ma non guardare la mia pace, e donare la mia pace secondo la tua volontà, dove vivere il nostro Dottore, Gesù Cristo. Amo. La pace del Signore è il suo Dottore, e con l'aiuto della mia pace, e con l'aiuto della mia pace, e con l'aiuto della mia pace, e con l'aiuto della mia pace. La pace del Signore è il suo Dottore, in cui hanno non guardato la mia pace, e con l'aiuto della mia pace, e con l'aiuto della mia pace, e con l'aiuto della mia pace. La pace del Signore è il suo Dottore, e con l'aiuto della mia pace. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.